Dai di grazie intanto le tue condizioni. Io sto riprendendo, spero il prima possibile per dare la mano alla squadra, al mister, alla società, a tutti, perché comunque ho molta voglia, è da tanto tempo che non giochicchio, quindi sinceramente vorrei ritrovare la condizione di questo inizio di campionato. Nel frattempo è cambiato l'allenatore, cosa ha portato Nicola Legrottaglie a primo impatto? Secondo me ha portato grandi stimoli, secondo me è un grande motivatore sotto quel punto di vista. Ci ha dato anche un'identità, ci ha fatto capire cosa vuole e noi spero che comunque si veda e lo riportiamo in campo. Ecco, in questo modulo varato dalle grottaglie, Andrea Di Grazia, dove si vedrebbe? A questo lo sa il mister, io ho un ruolo che comunque nel 3-5-2 non è quello mio definitivo, che è l'esterno, però posso fare la mezzala, posso fare la mezza punta, quindi il mister saprà bene dove adattarmi. Ecco, nel vedere la partita con il Pordenone, tu dall'esterno sei rimasto sorpreso dalla continuità espressa dal Pescara, non solo la qualità, ma anche la continuità. Assolutamente, abbiamo fatto una delle forze delle più belle gare di questo campionato. Ripeto, secondo me dobbiamo dare continuità, è quella che ci manca in questo momento, perché anche contro il Livorno abbiamo vinto, abbiamo vinto bene, anche se comunque il Livorno non sta attraversando un grande periodo. Dovevamo dare continuità al risultato, non l'abbiamo fatto. In casa dobbiamo vincere, perché è da tanto tempo che non vinciamo, quindi ci sono tutti i presupposti per far bene, quindi penso che lo si farà. Difficilmente forse ci sarai contro il Cosenza lunedì, cosa ci dici su questo fronte? E poi la partita d'andata è stata una bella prova da parte tua, anche con quel rigore che ti sei procurato. Sì, speriamo di recuperare, non lo so con certezza. Sì, è andata bene, molto bene per noi, grazie anche a Cri che ha fatto il gol negli ultimi minuti. Ripeto, non dobbiamo guardare indietro, adesso c'è Pescara-Cosenza e dobbiamo dare continuità alla vittoria e alla grande partita che abbiamo fatto a Udine. Il fatto che Braglia si giochi la panchina sostanzialmente e che la classifica loro sia una brutta classifica? No, noi vediamo a noi, noi vediamo a noi stessi, quindi non ci interessa se il Cosenza viene da un brutto periodo, se il Cosenza viene da un bel periodo, se il mister loro è in pericolo. Sinceramente noi pensiamo a noi e dobbiamo fare una grande partita, ripeto, per dare continuità al grande risultato che abbiamo fatto a Udine contro la seconda in classifica. L'ultima, obiettivo play-off? Vedremo, il campionato è ancora lungo, vedremo quello che ci riserverà. Grazie a tutti.